fare i conti con l'ambiente 2023 sedicesima edizione siamo con marco fantozzi una b2e insomma un amico di ravenna amministratore gli aiutiti per l'italia ciao marco stai ciao grazie di questo invito che apprezzo molto come dicevi tu appunto sono diversi anni che collaboriamo insieme quindi eccoci qui di nuovo per la proposta di collaborazione grazie mille allora abbiamo la settima edizione quest'anno della scuola di alta formazione sulla gestione dei servizi dici qualcosa a proposito di questa di questa scuola allora questa è una scuola come diceva la settima edizione che facciamo sono tre giorni organizzati in collaborazione con l'università di ferrara l'università di perugia con il denise idraulic institute e una serie di altri enti e di società del settore in questi tre giorni noi vogliamo mettere a disposizione delle utility che partecipano tutta una serie di esperienze di casi di studio di tecnologie best practice di innovazioni e di presentazioni sui temi delle nuove richieste dei regolatori delle nuove richieste delle normative in modo da tenerli aggiornati su tutte le opportunità e sulle innovazioni che possono aiutarli a evolvere sempre di più la gestione dei servizi idrici con sempre migliori performance l'edizione di quest'anno sarà molto focalizzata anche sulle tematiche del recovery plan sul tema della digitalizzazione riduzione delle perdite idriche noi abbiamo presentato insieme a diverse utili italiane molti progetti quindi ci saranno alcuni di questi progetti che verranno presentati e verranno discusse le problematiche e le tecnologie che verranno implementati in questi tre anni per compiere il percorso richiesto la pnnr ecco questo mi introduce un po la seconda domanda e diciamolo chiaramente state avendo insomma un discreto successo per usare un eufemismo proprio in arbitro del recovery plan e quindi in particolare nella digitalizzazione delle retiri che state lavorando come consulenti per l'adozione diciamo di pratiche innovative con le utility stesse ecco se vuoi darci anche qualche numero snocciolare qualche qualche dato su quello che state facendo perché mi sembra molto interessante sì noi abbiamo presentato diversi progetti per il recovery plan e abbiamo ne abbiamo ottenuti finanziati 11 11 su 21 quindi con oltre il 50 per cento di tasso di successo che è ben più alto della media nazionale escluso noi che del 9 per cento quindi evidentemente abbiamo saputo voglio dire mettere a frutto quella competenza con l'esperienza di tanti anni in questo settore a favore delle utili che ci hanno scelto per rappresentare i loro progetti quindi abbiamo gli abbiamo invitati a portare a casa circa 250 milioni di euro del recovery plan su un totale di 900 e e adesso siamo chiaramente impegnati nell'aiutare a mettere a terra tutti questi investimenti il nostro lavoro è quello proprio di sul fronte pnnr di portare formazione consulenza nella scrittura dei capitolati nella scelta delle tecnologie nella verifica dei risultati nella verifica del raggiungimento degli obiettivi nel nel aiutarli ad acquisire il know how ea riorganizzarsi perché la digitalizzazione richiede una revisione dei processi richiede una diversa organizzazione richiede competenze che spesso nelle utility non erano presenti nella quantità necessaria di progetti di questo tipo e quindi noi ci siediamo in parte al cliente percorriamo insieme questo percorso dandogli a disposizione tutta l'esperienza che abbiamo maturato col nostro team in tanti anni di lavoro perché ci occupavamo di questi temi anche prima che uscisse il recovery plan quindi questo ha accelerato ha accelerato un percorso che stavamo già facendo quindi parliamo di compliance parliamo di riduzione dei rischi legati alla sicurezza parliamo di ottimizzazione dei costi ecco un altro tema in cui vorrei concludere marco come abbiamo parlato diffusamente anche nelle altre nostre interviste nei nostri incontri fisici e digitali è un tema che affligge un po' no il nostro paese quello delle perdite no? so che continua ad essere un problema ecco come quali sono i dati? qual è la situazione? allora la situazione delle perdite in Italia abbiamo secondo le indagini gli stati i dati ufficiali siamo oltre il 40 per cento di acqua non fatturata che è un valore estremamente elevato anche usando gli altri indicatori suggeriti dagli enti internazionali abbiamo delle prestazioni non adeguate teniamo presente che stiamo vivendo in questo momento storico una siccità dovuta al cambiamento climatico che si sta facendo sentire negli ultimi due anni in maniera significativa e che tutte le previsioni ci dicono diventerà un po la norma per il futuro quindi in una situazione di grande spreco di risorsa e di diminuita disponibilità della risorsa contemporaneamente un aumento dei costi energetici che è stato molto forte e negli ultimi negli ultimi due anni tutto questo costringe in qualche maniera i gestori a percorrere una strada di efficienza perché non farlo costa molto molto di più non ce lo possiamo permettere e quindi l'attenzione alla riduzione delle perdite è aumentata il recovery plan ha previsto 900 milioni di euro proprio su questo tema e quindi ha accelerato un processo ma il messaggio significativo che è arrivato al mondo delle utility è quello che c'è una modalità un approccio che prevede la digitalizzazione non si può pensare di risolvere il problema delle perdite sostituendo tubazioni quello può essere fatto chiaramente deve essere fatto di cambiare le tubazioni ma in modo marginale in modo specifico e selettivo avendo instaurato un approccio di asset management con la quale io ho valutato i rischi e le conseguenze delle rotture di ogni tubazione e sulla base di questi rischi di queste conseguenze e dei costi connessi andare a fare una scelta di priorità in modo da intervenire su poche tubazioni che dove ottenere il massimo del beneficio ma intervenire nella riduzione delle perdite principalmente con attività di digitalizzazione e di gestione della pressione di ricerca perdite che portano a risultati migliori a parità di euro investiti quindi è un processo che chiaramente articolato perché è come un abito sartoriale che viene cucito addosso ad ogni cliente in funzione delle caratteristiche delle sue reti in funzione delle problematiche specifiche si va a definire un mix di attività e di obiettivi da raggiungere in funzione di quelle specificità quindi questo è quello che noi facciamo nella nostra attività consulenziale ma anche quello che cerchiamo appunto di trasferire nei corsi nella formazione che facciamo come quella di Ravenna di maggio e adesso abbiamo lanciato tutta una serie di altre iniziative perché abbiamo lanciato dei viaggi di studio all'estero presso utiliti avanzate cui invitiamo le utiliti a partecipare quindi sono tre quattro giorni che passiamo in giro per l'Europa in un paese poi in un altro avendo i contatti con le migliori utiliti del continente portiamo le utiliti che sono impegnate su questo tema a confrontarsi con gli esperti del settore stranieri che hanno già fatto questo percorso e poi abbiamo creato un gruppo di lavoro a cui le utiliti che hanno vinto il PNR possono partecipare perché abbiamo tutti diciamo abbiamo nel senso mi metto nei panni delle utiliti che abbiamo poco tempo per realizzare un grande progetto e allora in questo percorso è meglio non farlo da soli è meglio farlo potersi confrontare con esperti e con altre utiliti e quindi noi organizziamo incontri periodici nei quali i quesiti che possono e i problemi che possono incontrare le varie utiliti vengono discursi affrontati insieme e si cerca di risolverli al meglio e quindi queste sono tutta una serie di iniziative che noi facciamo per aiutare le utiliti nelle in questa evoluzione verso il digitale verso una gestione efficiente oltre al vostro percorso a fianco delle utiliti una cosa che mi ha colpito ti chiedo appunto un'ultima battuta di due minuti è il suo segnale start up quindi il vostro percorso di accelerazione will giusto mi pare che si chiami esattamente will sta per water innovation living lab è un'iniziativa che abbiamo lanciato l'anno scorso è iniziata in pratica a gennaio di quest'anno ed è grazie alla l'idea di del gruppo bonomi che è un gruppo industriale situato a brescia e insieme a loro che hanno sponsorizzato questa iniziativa ci siamo noi come a il con il nostro ruolo di facilitatore dell'innovazione c'è il centro studi materiali tecnologie dell'università di brescia la stessa università di brescia acqua e bresciane il gestore locale quindi abbiamo unito i vari attori della filiera che possono creare un ambiente che facilita la crescita delle start up voi sapete che le start up anche se possono avere delle idee interessanti e delle innovazioni valide rischiano all'inizio del loro percorso di non arrivare sul mercato per una serie di motivi motivi tecnici motivi economici motivi di poter avere accesso a competenze o ai partner giusti per aiutarli a crescere quindi abbiamo voluto creare delle condizioni tipo quelle che ci sono in israele o negli stati uniti per aiutare le start up a crescere e approcciarci al mercato quindi il fatto di avere industria università e utility insieme a collaborare con noi ad aiutare le start up voglio dire pone le condizioni perché queste start up arrivino al mercato con soddisfazione abbiamo fatto una selezione internazionale ne abbiamo selezionate 10 di tutto il mondo dalla sud africa gli stati uniti olanda germania canada e così via da tanti paesi e hanno completato il loro percorso ad aprile abbiamo fatto il l'evento finale di presentazione di queste start up che erano sui temi più diversi dalla digitalizzazione delle resi idriche ai trattamenti delle acque e delle acque reflue e così via questo è un po bene tante iniziative tante innovazioni sul piatto grazie grazie marco fantozzi amministratore di aiutitis per l'italia ravenna 2023 fare i conti con l'ambiente vi aspettiamo nella bellissima città romagnola per il sedicesimo festival ambientale e formativo grazie marco grazie a tutti grazie aveva la venna